Dicembre è arrivato e l'odore del Natale inizia a sentirsi. C'è chi è già entrato a pieno nel clima natalizio e chi preferisce aspettare un po'. Avete già fatto l'albero di Natale? Sì, sì, ma non ancora completato. Sono le luci. Ancora no, non ancora no. E io faccio il presepe. Perché questa scelta del presepe e non dell'albero? Mi piace di più, mi piace decorarlo e quindi mi piace realizzarlo. Non ancora. Non ancora, l'8 dicembre. Sì, sì, a me piace farlo presto. Non abbiamo ancora fatto, ma anche perché ancora è presto. Tradizione vuole che sia fatto l'8 dicembre, all'Immacolata. Sì, decisamente, da già una settimana. Quando si fa? L'8. E tradizione, insomma. Tradizione, io sono molto tradizionale. Beh, la tradizione si anticipa. Io l'albero del presepe mi piace farlo già un po' a novembre e toglierlo anche a Candelora, veramente. Quindi la tradizione rispetta. Oh no, chi aspetta. Chi ha tempo non aspetti tempo. E tra le vetrine del centro, illuminate e vestite a festa, iniziamo a scorgere i primi dolci natalizi, tra cui tantissimi panettoni artigianali. Avete già iniziato a fare regali? Ancora no. Stiamo per andare. Qualcosina sì, stiamo terminando. No, iniziamo a guardare. Non ancora. Siamo venuti apposta. Ancora non abbiamo iniziato. Stiamo girando? Su quello sono ancora pensierosa. No, no, assolutamente. Ancora no. I regali io di solito li faccio proprio la vigilia. Da parecchio. No, ancora è presto. L'ultima settimana, dai. L'ultima settimana, dai.